buonasera buonasera madonna che luce scusate ma ho messo alzato ok ok che c'è molta luce fuori e quindi ciao a tutti ciao 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 allora un paio di cose veloci stasera salterà la live per motivi di personali domani sicuramente fare una live leggerina quindi niente dip dive è un casino ragazzi è un casino sto periodo è un casino è un casino fra pochi fra qualche una decina di giorni parto per le vacanze e ho un miliardo di cose da chiudere sto veramente facendo difficoltà a a farcela per cui ho molte cose da chiudere e non ce la farò a fare un dip dive come si deve seconda cosa ringraziamo dadix3d grazie per la sub su twitch due mesi radon 90 13 mesi grazie believe me believe believe me mi piace lucaleon x akian 23 e jarvis 4nd grazie 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 altra cosa quando arriva il financial update ve lo dico subito è stato già girato l'abbiamo l'ho girato l'altro ieri sera martedì sera e verrà pubblicato su è comunque disponibile in versione grezza su twitch come come vod se andare sul mio canale twitch e cercate tra i video lo trovate verrà pubblicato editato su youtube vado a controllare il piano di pubblicazione sono le cose serie no mica mica siamo mica pizza e fighi penso che uscirà lunedì lunedì 8 luglio sul canale youtube uscirai editato il rip money ok oggi è giovedì domani ok ok uscirà lunedì abbiate un po di pazienza come va come va l'estate qui stiamo verso fine stagione eh si si sente già il 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 clima della festa del grazie non lo sentite è un clima un po è calante è luna calante sto periodo vediamo un po sera rip beh sera o mio dio non so da dove sei se scrivi se stai in giappone sì alcune live fa raccontavi di come ti piacesse far aprire gli occhi alla gente mi pare ti chiedessi anche come poter far di più quindi dato la tua passione per i board games perché non provare a fare un board game didattico a tema personal finance ovviamente è un'idea a cui ho pensato tante volte in questo momento non c'è proprio banda passante per fare questa cosa però è nei miei sogni per cui perché no perché no non è facile fare un board game che non sia cringe non è facile per niente fare un board board games che sia ragionevole però mi piacerebbe tantissimo piacerebbe tantissimo massimo in collaborazione possiamo fare tante cose anche in collaborazione con qualcuno ci ci è in cantiere è in cantiere ma priorità non altissima oggi 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 è un q&a fino alle 5 poi arriverà tommy e ci sarà il tablerone quindi domande quello che volete vi rispondo 100k secchi o lin su etf a distribuzione il più sicuro non so bene non so bene cosa intendi riccardo ti devo e ti devo scrivere riccari riccardo marcaccioli migliori intervistati sul canale andare a recuperarla e buon viaggio per grenoble e ti devo scrivere indietro con tantissime cose riccardo abbia pietà di me abbia pietà di me domani due ore di anatole e potrebbe essere una roba una donna ho fatto un deep dive su su chi è a 24 anni ucraino e si allenava si è costruito la palestra con i pezzi di fer grande anatole grande vladimir smodlenko allora sto progetto di sabato non so se è sabato o lunedì esce qualcosa come ho detto da circa febbraio ma se più intensificato verso aprile diciamo metà marzo inizio aprile fino a fino a ancora oggi domani ancora ancora sta andando avanti buona parte del mio tempo è andata in un progetto che uscirà ufficialmente a fine luglio ma già da penso lunedì o forse già questo questo weekend non lo so se esce qualche anticipazione niente spoiler sarà un progetto che ho fatto in collaborazione con un altro collega amico e potete immaginare potete immaginare sia con chi e sia di che si tratta tutto qua posso solo dirvi che sarà un progetto ovviamente sarà un progetto a pagamento sarà sarà un progetto per cui chi vuole usufruirne dovrà cacciare mano al portafogli però ci saranno c'è una componente gratis che è veramente tanta roba ci siamo proprio divertiti e che forse diventerà la base di un progetto futuro di podcast quindi aspettatevi a breve penso già questo weekend o forse al massimo lunedì un annuncio sia da parte mia che da parte della del collega su su come fare per seguire la parte gratis che è tanta roba e siamo proprio divertiti come pazzi un po' fiatone buongiorno rip cosa ne pensa dammi del tu ti prego di un deposito valutario col 48 ore non so cosa significa non so cos'è un deposito valutario non so cos'è un deposito valutario col non so cosa vuol dire 40 48 ore so cosa vuol dire non so cosa vuol dire questa questo prodotto non so cos'è non ho idea di cosa sia rip riesce a staccare completamente durante le vacanze no anche perché il progetto di cui sto parlando lo lanceremo penso verso fine luglio mentre starò in vacanza dovrò fare una live mentre sto al mare per lanciare il progetto quindi non stacco anche tu mister non riesce a staccare del tutto no io staccare non so più cosa significhi staccare intanto di o dei pensieri del tipo ma adesso ma se se annuncio che sparisco per mesi se annuncio che ragazzi per i prossimi cinque mesi non ci sono sarebbe figo grande brumilde stai parlando diamo un po ciao rip sono un ingegnere dell'automazione appassionato di finanza attualmente lavoro come risk manager mi chiedevo che step faresti per passare dal ramo ingegneristico ramo finanziario e non lo so non so bene cosa intendi puoi lavorare in maniera istituzionalizzata nel ramo finanziario non conosco non conosco i lavori ufficiali nel mondo finanziario sarebbe interessante intervistare qualcuno che ci sa spiegare c'è un bel video di the plane bagel che ho anche intervistato sul canale ma non su questi argomenti c'è un bel video che mostra i cinque settori principali del mondo finanziario e però quasi tutti quanti passano per una formazione accademica quindi dipende che domanda è se la domanda è voglio cambiare lavoro ed entrare nel ramo finanziario non lo so se senza una formazione adeguata quante possibilità hai odio abbiamo ben felix che è un ingegnere che però ha preso un master sicuramente una qualche un qualche titolo serve anche anche fosse un master anche fosse un mba anche fosse una qualche formazione difficilmente ti prendono nel mondo finanza così proprio però 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 veramente non so nulla potrei dire delle cose che sono di una banalità e stupidità allucinanti quindi preferiscono non dirti molto di più che non ne ho idea ecco il rischio è questo cash flow di chiusa che una merda per cui non è vorrei evitare cosa del genere non ne ho idea che libri o corsi mi consigli per studiare intelligenza artificiale ma io partirei da da ciò che è disponibile gratis o quasi che è ad esempio il corso il corso di andrew ng su cursera non so se ancora su cursera c'è un corso di andrew ng sono salite da parelle oppure trovi bellissimo quelli di silver ex ex google su youtube il corso di reinforcement learning se non sbaglio di david silver del 2018 trovi dei bei corsi devi parlare inglese se no io partirei da quelli ok allora vengo più realtà e se rispondo a tutti quanti è un po complicato allora ciao rip di secondo punto su youtube permetto che seguo solo e non sono un buon praticante dei tuoi consigli dividere il proprio patrimonio su più conti da non da pagare meno tasse e non sopra i 5.000 ha senso se hai 10.000 euro se ne hai 15.000 se ne hai 100.000 non ha senso non può fare 20 conti quindi ha senso fino a 2-3 conti dopo dopo ha meno senso cosa ne pensi per una fase di accumulo del reinvestimento automatico dei dividendi di interactive brokers non ho notato commissioni che pare strano ma in effetti è così tu lo usi lo sai tu non l'ho mai usato non l'ho mai usato quindi non ho idea di come funzioni è probabile che non abbia commissioni il problema è che però dipende di che cifre parliamo se ricevi 100 dollari poi l'acquisto ha commissioni non ha commissioni extra del servizio ma l'acquisto di share anche frazionate ha dei costi quindi io semplicemente accumulerei a un certo punto investirei cifre più serie come faccio già adesso quindi io penso che ciascuno debba avere un un importo minimo da investire ogni volta che fa un acquisto a meno che non utilizza strumenti che non hanno costi nel fare l'acquisto periodico come ad esempio Trade Republic se fai un pack non hai dei costi però se fai qualunque cosa che ha dei costi delle commissioni fisse oppure che scalano in percentuale all'importo ma che hanno un minimo garantito cercherai di trovare il mio atomo, il mio chip la mia quota minima di investimento e se devo investire 20 euro non li investo per cui vedi tu se questo è l'importo aggregato dei dividendi che ricevi supera questo chip è ok investirlo poi se il piano addirittura comporta investire su diversi prodotti con percentuali diverse il più piccolo prodotto deve superare il chip quindi vedi un po' tu questa è una bellissima domanda è una bellissima domanda AS chiede qual è la tua visione sul futuro del web slash software development considerando l'hype relativa all'AI è una bellissima domanda ma è molto è molto pericoloso dare da fare fare previsioni è molto pericoloso cioè il mio modello mentale al momento è che al 90 per cento questa è una cosa che si sgonfierà e non farà grandissimi cambiamenti c'è un 10 per cento di me che pensa che in realtà non con questa iterazione che non è un granché ma con la prossima iterazione potrebbe arrivare un potrebbe succedere qualcosa di brutto intendo dire non lo so se allora io non sono un grande fan non dell'AI mi sono laureato in quell'ambito ho iniziato a scrivere software nell'84 perché volevo programmare intelligenza artificiale non sono un grande fan dei large language models mi annoiano mi sembrano mi sembra che non non so come buttarla giù mi sembra che non siano la soluzione a a molti problemi sono buoni per interagire sono buoni per farti non lo so mancano di qualche feature fondamentale le neural network che non è tutta l'AI ma le neural network che sono il momento del maggior parte di ciò che abbiamo nell'AI non sono solo large language models c'è tanta altra roba e e al momento il grosso delle energie sta andando nei large language models che non fanno tutto non fanno tutto non fanno tutto quindi non lo so una parte di me è convinto che che questa roba non avrà un grandissimo impatto in altra parte invece teme teme che possa essere disruptive ora tendo a essere un po' più bearish quindi se dovessi scommettere scommetterei sul ok divertente ce ne dimenticheremo però dato gli enormi sforzi che stanno mettendo tutte le aziende sta corsa in qualche modo sta costando un sacco di soldi e c'è la c c'è un po' di ciccia non è come il metaverso per capirci c'è un po' di ciccia c'è rischio che investendoci tutte le grandi aziende tantissimi soldi qualcosa potrebbe uscire fuori di pericoloso ora il mondo del software development è uno di quei casi in cui un large language model se raggiunge certi livelli può prendere un po' il sopravvento cioè non può non penso possa fare problem solving alla grande cioè non penso possa sostituire tutta la parte di raccolta di requisiti di design quella è la parte iterativa un large language model gli poni un input ti dà un output non ti fa domande non ti propone dieci soluzioni ti dice cerca il trade off cioè comunque c'è da cercare un trade off il large language model è super cazzo la inventa la soluzione non va bene però la scrittura del codice spesso quella potrebbe un domani essere copilotata tutta se veramente la prossima iterazione sarà n volte più smart quindi è un po' un problema quindi mi chiedo serviranno software engineer secondo me ancora sì però potersi che scrivere codice sarà sarà una roba di nicchia questa è nell'ipotesi quella in quel dieci per cento che reputo l'AI possa far qualcosa di utile e resterà a lunghissimo termine large language model scusate non è AI quindi sul software engineering sono un po' meno un po' meno possibilista reputo che può darsi che fra vent'anni la gente non scriverà codice e è brutta come cosa mi fa strano pensarlo in ogni caso se sei un se stai scegliendola il percorso di studi in questo momento sicuramente c'è ancora molto molto spazio oggi per un software engineer poi fra vent'anni sarà diverso ma fra vent'anni sarà diverso tutto lo stesso ok però è veramente un ambito in cui far previsioni e e lanciare è veramente molto difficile in questo momento stiamo abbiamo assistito a un cambiamento molto appariscente senza con della ciccia dietro ma senza che abbia fatto stravolgimenti veramente nell'economia reale se non aver consentito all'azienda che vende shovel di vendere ancora moltissime shovel come si dice le pale no vendere vendere le pale ai cercatori d'oro e l'azienda che vendono pale ai cercatori d'oro hanno fatto un sacco di soldi in realtà nvidia vende pale non ai cercatori d'oro vende pale a quelli che fanno i large language model che sono quelli che vendono pale ai cercatori d'oro quindi nvidia vende pezzi di ferro per quelli che costruiscono pale per i cercatori d'oro che siete voi che fate la gpt plus e scrivete i prompt sono andato un po' dalla tangente scusate ma è un argomento un po' complicato allora grazie ferro dead rip bellissima idea dei posti con i libri consigliati mi fa piacere mi fa piacere andrò avanti per un po' ovviamente ha a che fare col progetto che lanceremo ovviamente ha a che fare col progetto che lanceremo quindi non la chiamerei un'iniziativa pubblicitaria ma è di sensibilizzazione però cosa volevo comunque fare ho fatto foto a gruppi di quattro libri ne ho per tantissime post vengo vengo più real time eeeh grazie Damiano grazie 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 della donazione sfruttando le tue competenze di programmazione a me hai pensato nel passato a diventare quant pricing di opzioni C++ Monte Carlo eccetera diciamo che quando ero quando ero molto dentro lo sviluppo codice non ero così non ero così interessato agli aspetti finanziari quando io ero molto molto diciamo che quando scrivevo codice in C++ tutti i giorni era prima che entrasse in Google e nel forse a sprazzi dentro Google quindi fino al 2012 ho scritto una valanga di codice ma non ero proprio non ero interessato a entrare nel mondo della finanza come quant e così via pricing di opzioni però non mi interessava una volta mi sono interessato di discipline finanziarie anche lì io ho sempre visto gli strumenti finanziari come supporto al cercare di vivere una vita intenzionale e quindi ho abbracciato sin da subito le filosofie degli investimenti passivi è ovvio che un settore del genere rientra in questo quadro in quanto è molto ben pagato e quindi aumenta la velocità con cui uno raggiunge l'indipendenza finanziaria non ho mai pensato di poter essere in grado neanche di avere le forze la voglia di mettermi a scrivere codice per far qualcosa nel mondo trading per conto mio cioè no io ci ho giocato al gioco di Giosaghi sì 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 ci ho giocato in Romania ci ho giocato con cari amici in una vacanza in Romania mi sono rotto i coglioni era noi poi poi sono sfigato ho fatto subito ho fatto subito due figli e lì ogni volta che fai un figlio il cash flow si abbassa quindi forse è da lì che nasce il non fate figli e sono rimasto nella prima ruota ma per lanci i dati sfigati non ho preso mai nessuna decisione ma sono rimasto mentre gli altri finivano la partita io stavo lì lanciando è un gioco dell'oca c'è una merda un gioco stupido allora questa qui ciao ma qualcuno oltre a Ripa e Viva Zurico c'è una community di Ripster con 150 persone c'è anche un gruppo Whatsapp c'è il sub c'è la sezione su Discord quindi troverai troverai gente non ti preoccupare passo mai da Londra quasi mai ci sono stato 5 volte 5 o 6 volte a Londra in vita mia l'ultima nel 2014 quindi boh allora Ripo chat qualcuno che sa dirmi la formula per calcolare l'aumento del valore di un'obbligazione della variazione dei tassi non è che c'è una formula non è che c'è una formula in teoria è sempre domanda e offerta quello che puoi fare affidamento è alla duration duration che non è maturity la duration è bilanciata in base anche alle cedule alle cedule quindi la duration è la sensibilità all'aumento alla variazione dei tassi e ovvio ci sono anche altri fattori in gioco che sono il rating l'affidabilità di chi stai mettendo l'obbligazione semplice domanda e offerta che possono seguire altre logiche e così via però la duration ti dice se duration è 6 se i tassi salgono di 1 quello crolla di 6 più o meno un po' come il delta dei greek delle options delta o gamma mi sono dimenticato i greeks delle options scusate domanda molto off topic che esperienze hai della sanità svizzera sono uno studente lavorando in medicina e sto volendo di specializzarmi lì dove ho studiato come funziona la sanità eccetera ho tante esperienze non molte personali la mia famiglia io ho tre bambine una delle quali ha avuto bisogno di ospedalizzazioni aveva dei problemi alla nascita una delle mie due gemelle ha come dire ha avuto bisogno di molta molta sanità tuttora ha bisogno ho ho opinioni mixed feelings per cui avrei bisogno della domanda un po' più specifica sicuramente è un buon posto dove lavorare cioè tu ne stai parlando come specializzando penso che sia un buon posto dove venire a lavorare la paga è ottima quindi non saprei che dirti più di così come fai a stare sereno con i mercati così alti allora come fai a stare sereno con i mercati così alti vediamo un po' sono alti i mercati in che currency in dollari qual è qual è il problema allora vediamo un po' di dati vediamo shiller pie retio vediamo un po' share i mercati sono effettivamente altini ok questo è lo shiller pie e retio come si come si può definire un mercato alto facciamo un po' di un po' di didattica in teoria se siamo dei random walkisti quindi degli coloro che credono nella efficient market hypothesis nella versione più pura non esiste mercati alti e mercati bassi in ogni momento lanceremo dei nuovi dadi dadi un po' truccati a nostro favore ma ogni ogni prezzo è il prezzo giusto per quel momento non c'è un i mercati sono alti i mercati sono bassi è un modo per fare timing e per pensare di avere un edge sui mercati chi in teoria ogni prezzo è quello più sensato per quel momento e il futuro definirà la variazione di prezzo da oggi quindi se siamo dei coloro che credono nella efficient market hypothesis non esistono mercati alti e mercati bassi ora io stesso che sono un grande fan dell'efficient market hypothesis riconosco che sono degli aspetti extra che non significa che la invalidano ma il mondo della finanza diciamo da sempre fa delle fa delle distinzioni cioè come dire la battaglia tra behavior realisti efficientisti tra schiller e fama è la seguente i behavior realisti i comportamentalisti come si dice sostengono che no aspetta si può dire qualcosa se i mercati sono alti o sono bassi gli efficientisti ti dicono no non è possibile io sto più o meno a metà su questo qui sono anche un po' più con schiller e quindi con i comportamentalisti e che succede succede che alcuni indicatori possono dirci secondo i comportamentalisti behavior realisti non me rompete il cazzo behavior realisti qualche indicatore è predittivo per futuri ritorni a lungo termine non nel breve nessun nessun accademico serio ti parla di indicatori per vedere il prezzo dove andrà fra un secondo non parliamo di trading di quel tipo di indicatori ad esempio schiller in alcuni suoi paper ha dimostrato come l'inverso del price to earning ratio o dello schiller radio questo che vedete qua in grafico il suo inverso che si chiama si chiama earning yields e y è indicativo per i ritorni a dieci anni ok ha poi ritrattato questa cosa con con excess cap yield schiller e c y eccolo qui excess cap yield tac cioè cioè essenzialmente l'inverso del cap meno il risk free rate e questo ha dimostrato che correla le s y excess cap yield cioè uno su cap meno il risk free rate sui 10 years bond e questo correla con i ritorni a dieci anni questo è un po' il claim che significa che quindi secondo schiller e tanti altri possiamo guardare al mercato e dire è un po' caro è un po' economico non sono mai informazioni che correlano con il breve periodo ma nel lungo periodo c'è una certa correlazione e su questo qua ci credo la stessa la stessa teoria ci credo c'è degli studi la stessa teoria è quella che che parla del reversion to the mean cioè il mercato non segue un random walk quindi Barton Malkiel Eugene Fama scusate mi sto dubitando dell'efficient market hypothesis il mercato non segue un random walk puro cioè non è tipo un lancio di dadi e si muove a caso ma tende a tornare tende a ritornare verso una media ok tende a ritornare al momento l'unico random walk che abbiamo avuto cioè noi possiamo vedere il passato e dire ah gli ultimi 150 del mercato americano si muove a caso ma segue una una traiettoria nel lungo termine su 30 anni è quasi è quasi imprevedibile questa traiettoria e quindi secondo questa visione possiamo dire se oggi i mercati sono alti o sono bassi c'è un altro problema c'è un altro problema è che se andiamo a vedere i dati storici il PR ha una media storica di 16 però dal 90 in poi non ha mai tornato a 16 tranne al bottom di questa crisi quindi o è dall'89 che ci siamo un attimo sbagliati oppure effettivamente i mercati attraversano diverse fasi ok secondo se fossimo behavior realisti puri e dicessimo però lo shiller pie è un po' troppo alto noi è dall'89 che staremmo fuori dai mercati quindi chi ci dice che che 30 è alto o basso ma adesso siamo in una nuova fase una fase che durerà per tantissimi anni in cui i tassi di interesse sono bassi e quindi il risk free rate è molto basso e quindi la gente è disposta a comprare azioni a 50 volte i loro earnings può darsi che il nuovo standard per il PR è 50 non lo sappiamo quindi anche secondo diciamo teorie comportamentali non so quanto senso abbia basarsi su dati storici qui purtroppo mi tocca da retta mi tocca da retta al mio amico Alessandro Pedone su può darsi e questa è una fase diversa però this time is different è una brutta è una brutta parola è una parolaccia nei mercati e quindi e quindi boh e quindi boh quindi boh quello che mi viene da fare e che ho fatto in passato è adattare la mia allocazione stocks bond per riflettere questi questi queste condizioni di mercato da parte di me vorrebbe ridurre l'esposizione azionaria è una sorta di timing non è una sorta di timing è una sorta di planning non sono il timing dicendo adesso riduco così domani crolla e poi ricompro no dico a queste valutazioni che anch'io reputo alte in effetti se vediamo il P-Retio il C-Retio se vediamo il P-Retio ci mettiamo a piangere se vediamo il C-Retio stiamo a valori assurdi stiamo quasi a livelli della dot com se vediamo il P-E peggio ancora anzi no il P-E è buono ok il P-E è buono perché non stanno crescendo molto gli earnings ok il C-P-E è altissimo il P-E è più basso questo è interessante vuol dire che negli ultimi dieci anni sono cresciuti poco gli earnings per cui la media della rolling su dieci anni non è così più alta della attuale media price to earning il C-P-E cyclically adjusted price to earning ratio è più alto quando quando gli earnings passati erano erano molto più bassi quindi in realtà ho detto una cavolata il fatto che sia molto alto il C-P-E vuol dire che c'è stata un'impennata degli earnings ok diciamo dovrei un attimo ripassare questi concetti ok ok comunque in generale sì reputo che i mercati siano un po' alti e ci sta ci sta essere allocati in maniera un po' più difensiva non è non è non è risk on risk off non è 100-0 non vanno fatte queste cose ok ok non vò non vò non vò letto per un po' infatti ho visto entrare ho visto entrare qui in chat vediamo un po' c'è Paolo c'è Paolo no me lo son perso non so se c'è Paolo 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 eh vedo arriva il nostro Eugene Fama della bufalotta in realtà esistono si deve dire che è alto di conoscere la min a cui il prezzo fa reversion buona fortuna stabilita ok però il fatto che price to earning sia 36 quello è un dato oggettivo si è suicidato un MD del private equity non so cosa significa secondo i livelli di price to earning siamo comunque su livelli di prezzo abbastanza alti a inizio anno beh se vediamo solo il price to earning istantaneo sì è alto mi stupisce vedere un PE vuol dire che gli earnings comunque sono buoni il fatto che il PE sia relativamente basso il CAP sia alto forse è l'effetto sotto covid gli earnings sono stati bassi per tutti non so bene come mai il CAP è così molto più alto rispetto al PE aspetto Giovanni che mi dice perché domanda che spero non sia stupida andiamo un po' a quanto equivalgono 100k somma a caso guadagnati in Svizzera se li avessi guadagnati in Italia come software developer che significa non la capisco ho troppe cose che significa l'ordinetti in potere di acquisto non lo so qual è la vera domanda mi stai chiedendo quanto costa quant'è il rapporto tra il costo della vita in Italia e la costa della Svizzera oppure tra posizioni simili quanto pagano in Italia e quanto pagano in Svizzera non l'ho capito ho aperto un conto Interactive Brokers fin qui tutto bene però ho scoperto che per noi giovani sono prodotti no non credo non credo cioè devi soltanto abilitare devi soltanto fare dei questionari o autocertificarti delle skill devi avere trading permissions ottenerle dipende dal mercato dalla persona ma di avere le trading permissions cosa ne pensi della bond ladder strategy sembrerebbe una resa migliore gli etfp resa migliore la bond ladder strategy è ottima cioè comprare bond a scadenza n anni e comprare ogni anno ogni x tempo bond che scadono a distanza fissa mettiamo facciamo bond ladder a cinque anni vuol dire tu oggi compri un bond che scade fra cinque anni fra un anno compri un altro che scade fra cinque anni dopo cinque anni sei a regime e ogni anno gli scade un bond che ricompri a cinque anni il problema con questa strategia qui è che intanto cedo le varie le accumuli per il bond che scade ma poi a un certo punto la diversificazione tra nazioni come la fai puoi diversificare tra n prodotti che fai prendi tutti quanti i prodotti italiani o prendi che ne so fai una bond ladder a cinque scalini due italiani uno tedesco uno francese un americano cosa fai come la gestisci a mano questo è un po' il problema resa migliore degli etf è molto relativa è molto relativa etf obbligazionale in franchi svizzeri poi non ne ho idea non ne ho idea sì ma se il min è 300 il cape min è 300 scusa un secondo dove come lo evinci che il min il min di sta roba qui è 300 se mettiamo i prossimi 500 anni potarsi e poi retroattivamente si ha sì se mettiamo i prossimi 500 anni e il cape medio sarà 300 lo scopriremo fra 500 anni allora non capisco ah parliamo del mio spreadsheet non capisco il time to broke le due previsioni sembrano basarsi sul patrimonio attuale compresa l'inflazione ma un anno positivo potrebbe un anno positivo potrebbe cambiare tutti tutto non capisco questa cosa è ovvio che è una simulazione poi la realtà se arrivano gli alieni o se le iaici mangia tutto cambia tutto è una simulazione basandosi su assunzioni è ovvio che le altre assunzioni possono cambiare non capisco non capisco questa critica ok consigliere Giovanni Mucciaccia consiglieresti ad un appassionato di in AI ormai prossimo alla triennale in informatica di proseguire con una magistrale in AI oppure pensi che tutto il mondo AI sia una bolla che sta per scoppiare penso che ho già risposto a questa roba qua mi sembra di aver già risposto credo cioè se l'obiettivo cioè se l'obiettivo è appassionato di AI proseguire con una magistrale in AI basta questo qua se tu sei appassionato di una cosa e la stai già studiando e repudi che sia interessante vai vai all in cioè vai vai tranquillo poi se hai una bolla che scoppierà lo scopriremo su questo non ne ho idea TFR italiano non ne ho idea non ne ho idea a me a pelle sembra stupido lasciarle in azienda cioè però la gente dice che lo fanno non so perché ma però non conosco i dettagli tornassi in Italia e lavorassi in Italia e prendessi un TFR ci penserei a pelle mi dovrebbe dire no non farlo però però non lo so non lo so ho fatto una live con Ciao Elsa hanno spiegato un po' più in dettaglio queste cose allora sono ragazzo di 22 anni riesca a mettere 300 euro al mese di là di lato come posso farli fruttare per un futuro investendoli per chi ha una visione a 30 anni quanto influiscono tutti questi dati macroeconomici o finanziari beh per settare le tue aspettative se parti oggi sapendo che se hai se hai un modo per dire che sono mercati alti puoi dire ok se in passato i mercati hanno reso il 10% l'anno magari in futuro renderanno il 6% l'anno su media 30 anni quindi per darti delle basi se hai degli obiettivi a 30 anni e vuoi comprarti una barca a 30 anni vuoi comprarti un castello a 30 anni che costa un milione puoi capire se ci arrivi o meno che volete che ne sappia su sta roba qua che volete che ne sappia del bond green romania non ne ho idea ok piacerebbe vero vwc e colla vinilica e cilio avrà avuto un attacco d'arte ok no mamma mia rip faccio un lavoro noioso noi parliamo di AI innovazione sono detto a usare visual basic script e sono tre mesi che vedo solo windows server no perché beh in teoria lavorare su nicchie così brutte è quasi una garanzia che per altri tu conta che fino a poco tempo fa molti molti bancomat molti terminali erano ancora in COBOL cioè un programmatore COBOL tra l'80 e il 2010 che già il COBOL era finito negli anni 80 però ha campato per 30 anni ancora come unica persona al mondo che sapeva fare le cose guadagnava un botto di soldi quindi non aver paura non aver paura magari sta monnezza andrà avanti ancora a lungo poi chi chiedeva la bond ladder comunque se devi scegliere n prodotti singoli good luck a diversificare cioè che fai ti pigli cinque governativi europei e basta? neanche un corporate neanche nulla solo europei? niente rischio di cagna niente bond fuori dall'Europa? non lo so mi sembra dipende quanti soldi hai ma mi sembra in generale poco 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 interessante poi io su questo qua vado molto in contrapposizione con Paolo Paolo Coletti non reputo che uno i bond debba solo averceli per le spese previste perché se no c'ha 100 milioni non può avere 99 milioni e 950 mila in stocks e 50k in bond per le spese previste e a un certo punto se hai una percentuale del tuo patrimonio allocata in obbligazioni un po' vuoi diversificare tra tutto 500k bond e 500k VWC solo governativi europei ovvio che io parlo dalla Svizzera che è più facile in quanto non c'è tasse sul capital gain e le tasse sui dividendi sono uguali in Italia ci sono dei trattamenti fiscali diversi in più c'è il rischio currency azzerato a investire nell'Europa l'incentivo a essere un bel po' sovraesposto rispetto al market cap obbligazionario sui bond europei governativi quindi ci sta che fino a certe cifre uno va solo di bond governativi europei singoli o etf a 500k io forse mettere dentro anche altri bond ciao mister sai che c'è un sistema per trasferire direttamente dollari da post finance conto in dollari ce l'ho anch'io a interactive brokers l'ho fatto si può fare si può fare come no si può fare wire transfer l'ho fatto l'ho fatto ti fottono 20 dollari non fa l'ho fatto non farlo da post finance sparare dollari sui bit ti fottono 20 dollari di commissione eh su interactive brokers puoi settare il modalità di ricevere soldi wire transfer funziona però è una mezza fregatura fallo poco esatto esatto quale parte della svizzera consigli per viverci domanda leggermente casuale che ne so c'è solo una svizzera la svizzera tedesca il resto sono il resto sono delle succursali il resto è tipo la svizzera italiana la svizzera francese sono delle succursali per prendere fette di mercato il Ticino esiste solo per prendere i soldi a Milano dai milanesi e Ginevra guardate come è messa è praticamente un'enclave svizzera in terra francese quindi esistono solo per prendere lavoratori a basso costo c'è solo la svizzera tedesca ragazzi il resto non è svizzera questa è brutta la ritiro ritiro la risposta in realtà non è vero il Ticino è un bellissimo posto e se sei italiano e vuoi parlare lingua italiana vai a vivere in Ticino se vuoi anche vogliare uno stipendio italiano vai a vivere in Ticino figurati figurati non so quale domanda mai vi hai fatto psichiatria ah medicina ha senso cercare un senso al PR attraverso una comparazione con i rendimenti delle obbligazioni del tempo è quello che oggettivamente ha fatto Shiller con l'excess cap e yield è ovvio che più il costo opportunità è alto cioè in un mondo in cui i bond danno il 10% te ti va di strapagare allora mettiamo così questo è proprio accounting basico il price to earning è quanto che moltiplicatore degli earnings di un'azienda tu stai pagando le sue quote se un ristorante andiamo sul semplice poi ovvio che è diverso per aziende quotate però cerchiamo di semplificare un pochino perdonate la semplificazione se un ristorante se un amico ha un ristorante ti dice guarda questo è il ristorante a fine anno restano come utili tolte tutte le tasse tutto il resto restano 100k e ce li dividiamo con le azioni ti va di prendere il 10% del mio ristorante quanto sei disposto a pagarlo quindi tu stai comprando con delle azioni stai comprando un pezzo di carta che ti dice hai diritto al 10% degli utili di questo ristorante ogni anno ora anche ipotizzando che non hai implicazioni fiscali altri cazzi il cash flow sia abbastanza garantito e costante 10k all'anno quanto costano 10k all'anno eh non lo so quanto si pagano 10k all'anno si è disposto a dare 100k subito probabilmente sì sto pagando 10 volte gli earnings questo ristorante a price to earning radio 10 in 10 anni di earnings di divisione degli utili mi ripago la quota commesso pe pari a 10 se si possa pagare un milione eh cazzo un milione vuol dire che rientro in 100 anni dell'investimento eh non lo so se mi va anzi che sei matto quindi che vuol dire rip che pe 10 è buono pe 100 è brutto no dipende dal costo opportunità che altro ci posso fare a quel milione se i tassi sono zero la banca mi dà zero di interesse i bond danno zero io il milione fermo in mano mi rende zero piuttosto mi compro sto pezzo di ristorante che mi dà 10k l'anno quindi il costo opportunità in qualche modo è rilevante nella scelta nella nell'accettare o meno un certo price to earning radio ok è ovvio che poi andrebbe vista la situazione in cui l'azienda ha potenziale di crescita infatti le aziende gross le aziende tech hanno un price to earning molto più alto perché la gente si aspetta che oggi guadagna 100k l'anno l'anno prossimo farà un milione e fra due anni fa un miliardo per cui la strapago un'azienda chi se ne frega un'azienda più value che fa il ristorante e ha un cash flow più garantito ha un price to earning più basso quindi in qualche modo sì il senso nel cercare il senso al PR ci sta attraverso la comparazione con i rendimenti e le obbligazioni nel tempo perché obbligazioni perché spesso è il costo opportunità cioè qual è il costo opportunità più facile è soggettivo se io sono un imprenditore e con quei con quel milione che stavo per comprarmi il ristorante ho mille idee posso creare la nuova Tesla e diventare miliardario ho il mio costo opportunità ma se non ho un costo opportunità intellettuale mio e quel milione sta fermo l'alternativa è comprarci di un listato l'alternativa risk free si diceva così e adesso prendiamo risk free con le pinze è comprarci obbligazioni più stabili possibili bond tedeschi quindi se quelli danno il 10% è un PE è un PE pari a 10 se quelli danno il 1% è un PE pari a 100 quindi sì la risposta è sì e non lo dico solo io lo dice anche il buon Robert Schiller però che stiamo stiamo sfociando in territori in cui non sono ferratissimo ho il mio modello mentale penso di aver capito i pezzi principali però dei dettagli potrei perdermeli non fatevi ignorarsi vengo ma quante altre domande mi sono perso le ultime 100 domande le ultime 100 commenti non le ho letti per cui chiedo scusa ma fate domande adesso se volete far domande Pietro Pietro preferiresti essere solo in un bosco con un uomo che ti vuole vendere fondi attivi o con un orso che ti vuole un etf eh dipende 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 allora prendo l'ultimo cosa ne pensi non ne ho idea non ne ho idea non ne ho idea non ne ho idea poi esiste il pie rapportato dal gross ok questo non lo conosco ammetto che sono ignorante sono ignorante sono ignorante ah impremmo di pubblicare dei corsi ottimo allora c'è anche da dire che il concetto di risk free rate non ratio risk free rate nella pratica è un po' una barzelletta molte teorie finanziarie mi sembrano profezie ad avveranti sì vabbè si è sempre considerato i i treasury americani per il mondo americano come risk free rate lo reputo di una barzelletta un po' un po' io sì cioè non può essere risk free un debito che cresce al dismisura all'infinito quindi risk free eh given that non facciamo una brutta fine come società però sì è anche non è mai risk free allora questa è una bella domanda ma troppo aperta come possibile risposta per quanto riguarda l'income da stipendio aspetta un secondo che sto ok per quanto riguarda l'income da stipendio ha senso cambiare azienda se ti offrono 10k in più dandoti lo stesso ruolo e stesse mansioni però nell'azienda attuale sei vicino alla promozione allora perfetto facciamo un po' di pensiero critico analizziamo la domanda la domanda è vaga ok vediamo un po' income da stipendio ha senso cambiare azienda e ti offrono 10k in più intanto 10k quanta percentuale dello stipendio sono se guadagni 1000 euro l'anno e quindi sei stai morendo di fame te ne offrono 11.000 è una cosa se guadagni un milione l'anno e diventano un milione e diecimila è irrilevante ok quindi in che range di salario stiamo parlando da 30 a 40k da 120 a 130 cambia tutto l'incremento in generale si misura in percentuale secondo quali altre cose cambieranno mi porrei le seguenti domande questa è l'unica domanda che non mi porrei l'ordionnetti è sicuramente lordi nessuno parla di stipendio netto nessuno nelle negoziazioni non si può parlare il netto è una funzione personale quindi non lo sai ti devono chiedere se hai figli a carico quando ti propongono lo stipendio fanno questo è lo stipendio quant'è netto in più sono 10.000 però aspetta hai figli a carico sì ah qui sono 9.300 sempre lordo cioè le aziende parlano con lordo ok quindi quella è l'unica domanda che non mi farei domande che mi farei che ti farei sono intanto devi trasferirti diventata da un'altra parte anche a livello micro l'attuale azienda lavori da remoto in entrambe le circostanze tutto il resto dei benefit 10k in più è un aspetto dei benefit tutto il resto che altri benefit hai da una parte o dall'altra non devi trasferirti stessa città dove sta l'ufficio di uno o dell'altro cioè devi andare in ufficio anche perché prima andavi in un posto che era un chilometro ora sei a 10 chilometri potrebbe rientrare nei nei nella scelta poi com'è l'ambiente attuale ti piace puoi crescere hai colleghi che ti piacciono lavori a progetti interessanti sei vicino alla promozione cosa significa promozione? più responsabilità molti più soldi pochi più soldi sono un miliardo e mezzo di domande la risposta senza avere un miliardo e mezzo di risposte è dipende allora abbiamo qualche qualche chiarifica qualche chiarificazione da 40 a 50k lordi no trasferimento smart working stessi benefit ok abbiamo già un po' di dati in più in Italia immagino di sì se no non dicevi smart working no trasferimento quindi fully remote stessi identici benefit team colleghi progetti 10k in più 40 a 50 è un bel aumento quindi l'attuale azienda è un'azienda in cui pianificavi di stare a lungo termine o era comunque un trampolino se era un trampolino questo è un bel salto in su l'azienda in cui arriverai è un'azienda a cui ambivia ad arrivare oppure un altro trampolino per fare job hopping che strategia di lungo termine hai job hopping fino a una certa cifra o se la ricerca stai costruendo il curriculum sei all'inizio della carriera sei alla fine ancora è molto dipende però con queste poche informazioni che mi hai dato il mio ragionamento bayesiano mi porta dal puro 50% a propendere verso un 65% dovresti cambiare però ci sono ancora molti 65% non stiamo a 100% io così ragiono ok evidenze dati ragionamenti deduzioni tiro fuori una nube di probabilità ok non esce del tipo devi non devi quello te lo dicono in televisione tempi televisivi bisogna fare così io dico dalle poche cose che mi hai detto mi viene da pensare che un 70 65% dovresti cambiare ancora molto molto variabile e la madonna allora dai non penso che sia interessante parlare di me adesso dai se no resto parlo fino ad infinito allora allora per un residente in Svizzera quarantenne ma con idee di pensione in Italia se ricevesse una somma importante in euro tipo 100k convertiresti via o investiresti senza cambio di valuta allora vediamo un po' vediamo un po' dove questa domanda è sbagliata mi dispiace che spesso vi rispondo così ma penso che sia utile penso che sia utile il mio Q&A è io verso di voi cioè voi fate degli abbozzi di domande e io ve le ve le ve le torturo provo a fare still man argument cioè vado a prendere la vostra domanda irrobustirla dove riesco dove però mancano pezzi vi chiedo maggiori informazioni e poi provo a dare una risposta quindi residente in Svizzera quarantenne sono dati importanti? magari sì sono importanti per il resto della domanda con idee di pensione in Italia ottimo è dato un ottimo quadro se ricevesse se ricevesse per un residente ah ok se questa persona ricevesse una somma importante 100k 100k quarantenne residente in Svizzera obiettivo di pensione è una cifra importante? ok non è un milione 100k io lo chiamo un mercoledì convertiresti via cioè mi stai dicendo trasformeresti euro in franchi oppure investiresti senza cambio valuta non mi sembra una falsa dicotomia potrei investire in euro potrei convertire in franchi e investire in franchi potrei tenermi euro liquidi potrei convertire in franchi e tenermi franchi liquidi poi se investo in euro che problema c'è? potrei comprare gli stessi prodotti che comprerei se convertissi in dollari o in franchi se sto investendo in un etf globale che prendo la versione quotata in euro quotata in franchi o quotata in dollari è la stessa identica cosa non cambia nulla non c'è un extra rischio di cambio quindi non so bene cosa intendi a meno che tu non volevi investire in strumenti svizze se volete comprare Nestlé, Roche e Novartis se investire significa comprare prodotti globali è irrilevante perché dovresti convertirli in franchi poi peggio si converti in franchi poi che fai? compri prodotti quotati in franchi su six pagando pure il 0,15% di stamp duty e poi una fesseria hai ok ti converti in franchi investi ok no investi direttamente in euro fatti una domanda e datti una risposta come Marzullo dai aspetta come non mi sono perso forse ho saltato ho saltato un po' di roba eh a te ti rispondo sempre Fede non rompe i coglioni non mi accusare di questo facciamo domande brutte tu parli spesso Rip tu parli spesso di come ti sei trovato male nel PhD ma un assegno di ricerca di un anno ha senso un po' di ricerca per chi non vuole insegnare o è solo un modo di dare un calcio al barattolo bella domanda molto bella come domanda chissà quanto tempo io ho quanto tempo mi prendo per rispondere allora facciamo questa domanda tu parli spesso di come sei trovato male nel PhD allora io no mi sono trovato male nel PhD in realtà ok ero ero molto giovane in realtà no non ero giovanissimo sono entrato io prima una volta laureato ho fatto due anni di assegno di ricerca io ho fatto in teoria ho iniziato l'assegno di ricerca prima di laurearmi non è che il dipartimento si era incazzato nel 2002 ho iniziato l'assegno di ricerca di due anni fino al 2004 tant'è che quando mi sono iniziato al dottorato ho dovuto chiudere l'assegno di ricerca vabbè una situazione un po' strana quindi ho fatto l'assegno di ricerca è stato un modo di dare un calcio al barattolo sì ma c'è anche la gioia nel PhD mi sono trovato male perché prima ero un po' poco proattivo avrei potuto far di meglio però il mio gruppo di ricerca era veramente assurdo era anche chi era più proattivo faceva una brutta fine quindi ho avuto un'esperienza singola brutta comunque ho incontrato persone diciamo che non butto tutto di quell'esperienza lì però ho buttato tre anni quattro anni incluso l'assegno di ricerca ho buttato quattro anni quindi che dire ho un sample è un'esperienza aneddotica sarebbe da sentire più voci fai una segna di ricerca di un anno se vuoi farlo vai tranquillo allora credo che prima o poi aspettiamo credo che sia ora è ora del tablerone se non sbaglio è ora del tablerone vediamo un po' vediamo un po' un attimo vediamo un attimo che succede attenzione mi sa che sta per per arrivare il tablerone ragazzi puntata del tablerone eccezionale lievemente improvvisata giusto un po' weee don mi carissimo improvvisata improvvisata questa puntata perché non lo so giusto perché non ci siamo sentiti non ci siamo sentiti ti ho mandato un video tu mi hai detto che è sta merda giusto così però magari è dal è da questi momenti che escono le cose migliori no non sei d'accordo con me ma guarda sono d'accordissimo sono d'accordissimo e secondo me è importante prendere questi momenti così come per allenarci per vedere quanto siamo capaci a gestire queste cose in in realtà questa è una un clima difficile una compagnia di improvvisazione come teatro dobbiamo fare ci dico la punta del basso cerchiamo lo alzo di nuovo lo alzo di nuovo lo alzo anche da StreamYard ma guarda in realtà ti dico lo sai che queste domande a cui stavi rispondendo adesso nel tuo Q&A mi hanno ricordato una delle idee che abbiamo discusso anche in passato cioè fare un po' la posta del cuore però su ambito lavorativo quindi anche quello vedi ispira dei format che magari avevamo esplorato in passato se vuoi possiamo fare un tabberone Q&A con la chat potrebbe essere divertente io direi ragazzi se voi avete domande sulla vostra carriera su questi carriera mettetele carriera in chat o tech niente di soldi adesso sì esatto perché io se no vengo arrestato dal gabbio tipo se Federico bidone vuole fare la domanda che ci stava tenendo può farla può farla pure però ovviamente essendo una puntata del tabberone noi intanto abbiamo anche i nostri i nostri link chiaro il problema è che questi link sono dietro paywall io sto mettendo i miei soldi adesso li sto dando a Jeff Bezos nella maniera più rapida possibile intanto prendo tempo prendo tempo mettendo domande qui c'è frontaliere no no ritorno di progett ah magari figata in un mondo sempre più dominato dalle AI Tom mi chiedono a te in un mondo sempre più dominato dalle AI non credi che il PhD diventi sempre più importante per fare carriera oddio mi sembra così generico cioè il PhD in cosa bravo bravo mi piace mi piace il PhD in content creation e content creation adesso per esempio sappiamo che niente il link non funziona c'è un articolo del Washington Post che ci dice che la maggioranza odimo odimo si definisce video content creator e quindi nel periodo dell'AI magari quello è il PhD che vuoi perseguire allora facciamo l'ipotesi PhD in ambito scientifico quindi PhD in chimica PhD in chimica nel mondo dell'AI è meglio o peggio rispetto al PhD in chimica in 30 anni fa prima della wave di OpenAI penso che la risposta classica sarebbe stata sì perché avrai delle conoscenze specifiche che non saremmo in grado di replicare tramite AI la creatività che riuscirai a sviluppare mettendo insieme competenze di più campi ti aiuterà ad arrivare dove nessuno altro arriva invece adesso ho la sensazione che l'applicazione dell'AI in campo scientifico si sia allargando sia la parte creativa che la parte quantitativa e quindi non lo so c'è anche da dire che i PhD cambieranno probabilmente cioè così come quando tu facevi il PhD in matematica nell'antica Grecia il famosissimo PhD che si faceva nell'antica Grecia c'era già sì 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 mi sembra Pitagora Pitagora è stato il primo il primo PhD magari ti insegnavano a fare le addizioni o le moltiplicazioni adesso siccome c'è la calcolatrice non impari più quello ma impari il quattordicesimo livello di geometria non equilidea che ti serve per risolvere il teorema per scriver il paper per scriver il paper in alcuni ambiti il PhD è lo strumento per avanzare la ricerca di un passo più in là in molti ambiti il fronte della ricerca è molto 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 di nicchia conosco PhD in tante discipline tecniche STEM che magari ricercano un dettaglio sulla molecola di questa cosa qui che non necessariamente ha risvolti commerciali immediati poi si sa mai darsi che una ricerca irrilevante in una quindicesima dimensione topologica dell'universo poi diventa utile nei transistor della prossima generazione non lo sai mai però questa è anche un po' la storia dell'umanità no? cioè se ci pensiamo tantissime tecnologie sono nate per motivi differenti e soprattutto è successo gli esempi che mi vengono più in mente sono quelli in ambito militare e poi le abbiamo usate per fare il microonde per dire quindi questo sicuramente rimane un'opzione però ecco non mi viene così naturale dire sì fai il PhD sarà meglio prima penso ci siano veramente tante incognite dipende anche da quanto velocemente si adatta il mondo accademico sì sì questa è una bella bella osservazione io credo che in realtà il PhD sia dico sempre che è una questione più di passione più di se sei portato verso la ricerca verso l'approfondimento puro è la ragione il motore principale per cui dovresti fare un PhD cioè già dovresti dovrebbe essere un motivo anche per studiare per scegliere la facoltà quanta gente si mette lì e vede dov'è che c'è possibile lavorare e va in quella facoltà cioè non è che è un corso di un anno di formazione non è che dici faccio tre mesi di preparazione a qualcosa se investi tanti anni è un pezzo di tua identità per cui un PhD sono tre anni in genere almeno tre o quattro anni in buone parti del mondo sono anche quattro anni è un pezzo forte di identità per cui devi essere guidato da da devi sentire una spinta e va oltre l'opportunismo a mio avviso sì e poi se non sbaglio è anche un gettone d'ingresso per tutta la parte legata all'insegnamento in università quindi penso molti entrino nel mondo del PhD anche per quello poi capiscono che si guadagna un quinto di quanto si guadagna lavorando da meta e si spostano là però prima il sogno magari per molti può essere anche quello non lo so anche chiaro ma dipende dall'ambito però sì soprattutto se vuoi fare il professore di qualsiasi cosa ci deve essere la passione ci deve essere il cuore il cuore così come c'è il cuore così come c'è il cuore per la maggior parte degli Gen Z nel fare i content creator che bello 65% dei giovani degli utenti internet giovani si considerano video madonna 65% sì ragazzi questo numero è allucinante adesso è un sondaggio fatto da YouTube sarà da capire verso chi verso i content creator verso intanto gente che usa YouTube per cui è vero che YouTube la usano 2 miliardi e mezzo di persone per cui è un bel sample però intanto già toglie tutti quelli che non usano YouTube quantomeno sì quelli che hanno voglia di rispondere a un survey su YouTube che sono quindi già power user di YouTube perché magari mia madre usa YouTube ma non si mette di rispondere a un survey e poi mia madre è un agency credo è l'ultima volta che ho controllato sì no penso di no a meno che non abbiamo finito l'alfabeto nel frattempo e vogliamo andare cominciato sì 18 e 24 questi a 350 membri 350 membri negli Stati Uniti diciamo che YouTube poteva impegnarsi un po' di più 1000 people have to spend their time online quindi il sondaggio era più generico però 350 membri dai ma per favore ma che stiamo commentando il nulla la valenza statistica di un lancio di una moneta sì 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 quindi però ecco hanno usato queste informazioni per mettere insieme il loro questo qui è roba YouTube cioè proprio YouTube ha pubblicato questa roba non è tipo un'azienda del piffer YouTube ha pubblicato questa roba YouTube proprio YouTube allora il sondaggio è stato fatto su più persone si parlava di qualche migliaio però il sample size della Gen Z a quanto pare è stato di 350 persone ok boomer sì questa cosa mi sembra eh I think they're a fan at least weekly ok quindi vabbè 80% delle persone usa YouTube per consumare temi di cui sono appassionati super fan 85% età 14-44 fan di qualcuno vabbè anzi anzi c'è il 15% di utenti che dice no ma non sono un fan che vuol dire fan eh infatti quella è un'altra perché casual fan cos'è un casual se sei un fan ah qua c'è la descrizione qualcuno che a volte ingaggia con la persona di cui sono fan è un casual fan secondo questa descrizione a big fan è qualcuno che ingaggia in momenti importanti in maniera regolare spendendo soldi ok su quella passione addirittura ok quindi il 30% almeno spende soldi anzi no 50% 60 quasi spende soldi sulla sulla persona di cui sono fan nella piattaforma professional fan è qualcuno che guadagna revenue dalla fanship ah ok quindi un fan professionale di terraformi in marse è uno che fa contenuti su terraformi in marse non è su di qualcuno cioè ma qua c'è something or someone vabbè quindi sta mischiando sia quelli che seguono sia i simp che seguono content creator tutto il tempo con quello che è fan di un board game che ci fa soldi cioè un mischione della madonna col fan dei droni per dire sì è un mischione un po' strano effettivamente ok ci sono un po' di spotlight ecco questo è interessante il 47% delle persone che fanno parte di un fandom non conoscono nessuno che ha quella passione aspetta neanche all'interno della personalmente personalmente cioè io sono fan di ma tutti parenti amici ok allora è un dato interessante in realtà non è così assurdo anche perché non è che ogni persona ha solo fan solo di una cosa io potrei seguire 50 interessi e magari delle persone che conosco dal vivo fisicamente non c'è almeno un interesse che gli altri che nessun altro che conosco dal vivo segue cioè non lo so no certo però quanto era comune questa cosa perché prima anche se tu diventavi fan più interessi hai più è comune più interessi hai più è comune però diciamo a me sembra che lo strumento sia incentivi questo tipo di di passione no perché prima tu diventavi fan dei board games magari anche se non conoscevi nessuno però poi per poterne soffroire dovevi incontrarti di persona con con qualcuno e quindi questo numero andava quasi naturalmente a tendere a zero perché una volta che eri fan sì beh certo certo prima o poi conoscevi qualcuno beh la cosa interessata è beh Gen Z spesso sono giovani hanno dato il tempo di conoscere qualcuno ma sono fan di Taylor Swift che cavolo ne so di un cantante ma li seguono sono fan di cento personaggi e qualcuno di questi qua nessun altro dei suoi amici è fan ci sta cioè io seguo Anatoli Jim Prank però adesso ho tanti amici però se mi limitassi solo alla cerca di persone che frequento dal vivo qui nessuno lo conosce cioè è facile che anch'io c'è almeno una cosa di cui sono fan che nessun altro che conosco lo è sì questo magari spiega anche perché c'è comunque tanta tanto la stessa cosa perché prima questo Anto Anto ha detto tutto sto pdf bisogna dimostrare arriva il perf bisogna dimostrare che cosa si è fatto questo è stato il deliverable del Q2 per 50 impiegati di youtube ah in effetti io potrei essere un grande attrattore per professional fan basta che qualcuno ha scoperto che la zia aveva i soldi investiti con fondi vendero e da lì l'ha liberata ha fatto soldi a un professional fan sì potrebbe essere potresti farti inserire il tuo sample size di audience sarebbe comunque più grande di quello di questa più grande di 350 assolutamente di questa ricerca quindi sì però ecco magari questi dati spiegano anche perché poi invece quando si fanno delle attivazioni in loco c'è tanto interesse a essere presenti paradossalmente più è grande l'evento non paradossalmente più è grande l'evento più le persone vogliono partecipare cioè io lo vedo con il concerto di Taylor Swift forse è stato l'esempio più più lampante dove c'è questa voglia di andare fisicamente ma mi vengono in mente anche i party che faceva il Cerbero che creavano tantissimo hype di una community online con un sacco di gente che magari non si conosceva tra di loro però poi andavano ai party e sfruttavano questa passione in comune per conoscere persone rispondo qui a Giucangio che dice chi è che non conosce gli scherzi Anatoly ok però quel punto è quando è che posso definire di rientrare nel quel 47% di Gen Z che appartengono a un fandom di cui nessuno che conoscono ci appartiene cosa si intende con nessuno ad esempio tutti qua in chat conosciamo Anatoly ma io non conosco te per cui posso dire che io ho questa ho questa passione che nessun altro delle persone che conosco per davvero cioè dov'è il limite su conosco conosco perché altrimenti qualunque fandom appena ci entro e chatto con qualcuno o vedo i commenti di qualcun altro e ci interagisco già conosco qualcuno quindi sarebbe zero per definizione a meno che non è essere fan di una pagina morta non lo so sì anche se a volte mi sembra anche che ci sia un po' di paura nel condividere le passioni che si hanno online ecco magari ci diranno ci diranno in chat se questo è vero però voi avete mai quasi paura a dire ah sapete seguo mister rip su youtube perché magari non se ne parla però invece delle persone seguono sarebbe quasi carino avere la possibilità tipo i match di tinder però sulla base di chi segui su youtube dici ah ma guarda che c'è un tuo amico che segue anche lui mister rip vuoi scoprire chi è se tutti e due mettete sì vi mette vi fa avere questa notizia io ricordo è un caso è una cosa interessante quella che hai detto aspetta perché io ricordo che c'era qualcuno te lo faccio vedere subito qualcuno che gli è stato chiesto se segue mister rip e e aspetta eh eh ah anche tu lo segui sui social lo seguo sì lo seguo questo ragazzo seguiva mister rip tempo fa però non so se rientra in questo discorso te sei te sei mutato aspetta te sei mutato sì sì no lo sta ancora inseguendo non è ancora riuscito a a prenderlo sì sì dobbiamo fare prima o poi dovremmo fare un tablerone dal vivo perché ormai esatto esatto tanto tempo chiedono se conosci anche il jovashow oddio che cos'è il jovashow vedi vedi rip non vuoi dire ma in quel 48 genzit non ci può entrare sei vecchio lo so grazie grazie mi è partita una live di mister rip su discord ora sono vessato non ho più amici è quello è il momento giusto per per consigliarlo agli amici veramente cioè già come obbligazione quello lì è il è lo disco di fondi attivi quello secondo me può essere comunque no ti dico guarda bene il jovashow poi mi ringrazierai cerca il jovashow su instagram non è molto diciamo televisivo da far vedere via mi comunicano dalla regia che abbiamo una notizia che dovremmo dare Tommy cioè tu non te ne sei neanche accorto di sta cosa guarda un po abbiamo una start up pronta a fare le scarpe anvidia ah ma proprio tipo di belle di plastica eccolo qua è un asics non so le fanno di le asics le asics si 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 famosissime guarda un po eccola qua sono tanti soldi ma ecced segna segna scusa che sono un po raffreddato ecced ha sviluppato un circuito integrato specifico per applicazioni asic chiamato sohu progettato per offrire prestazioni superiori per le applicazioni ia capito ok è andata è andata bisogna subito subito potrebbe essere interessante perché non ho mai sentito nominare quindi vedi Fede ti sta a piacere medical dimension allora quindi quindi abbiamo il competitor di nvidia guarda 8 8 cluster sohu riescono a produrre ben 500.000 token al secondo quindi che ci facciamo con questa informazione andiamo si claim che arriva scazzillo nuovo e 20 volte faster sono dei claim no poi l'abbiamo già detto che insomma il problema vero e proprio è che ormai CUDA è diventato uno standard anche a livello software e quindi immagino che si vada a sostituire a CUDA idealmente come modello di sviluppo come base di sviluppo non so neanche come chiamarlo e quindi prima devi anche convincere tutti quelli che adesso stanno sviluppando dei modelli ottimizzati per l'infrastruttura invidia a spostarsi su echu non è facile l'abbiamo visto che insomma i virus si diffondono velocemente però mi sembra complicato hanno raccolto un bel po' di soldi sembrerebbe qua c'è un articolo di Crunchbase che dice che hanno raccolto 120 milioni nell'allround che immagino la faccia 120 milioni roba una roba si 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 venture funding to semiconductor chips up the wall on its way ok quindi la considerano un round per un'azienda che produce chip fondamentalmente però sta bouncing back da un forgettable 2023 non parte però benissimo no ma qua parla proprio degli investimenti in aziende che fanno chip non è su questa startup in particolare ok quindi però dicono qui l'anno scorso ci sono stati 8.8 miliardi di fondi in 490 deal mentre invece l'anno prima sono stati 10.9 miliardi di dollari in addirittura meno affari quindi ah ecco perché infatti è andata virale questa startup l'avevo sentita questa cosa effettivamente questa azienda actua actua ok non la conosco no non conosci questo è un meme che forse ha sforato anche più del necessario però visto che non sei un uomo di cultura allora ti ti informiamo sono rimasto fuori dal mondo doni si è stato un meme che è girato ma anche io sono arrivato un po' in ritardo ma era una roba vera o un primo aprile in ritardo no è una ragazza che è andata virale perché ha risposto a una domanda ecco questo sono 43 secondi si va bene magari la pubblicità la facciamo saltare al pago eccolo qua actua actua ah si si ricordo come l'ho sentito nominare perché non sentiamo niente Tommy ah mi sa c'è stato un problema col mio col mio computer non so perché non fa sentire l'audio comunque c'erano i sottotiro ok mi interiché e lei che lui che gli chiede come fai a a far innamorare un ragazzo lei dice you need to hack two on that thing che sarebbe sesso orale e roba del genere si fondamentalmente si diciamo un riferimento un po' sottile mi confermate viviamo in un mondo in cui una ragazza che dice dovete fare sesso orale diventa una cosa virale ok pensavo possiamo voluti oltre questa roba lì no 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 hai letto bene rip ho perso qualcosa non ho capito bene rip via su Marte ok si su Marte infatti il sesso orale ragazzi non si fa perché c'è proprio un problema io ero spit on that ok devi sputare sul me si vabbè ragazzi non volevamo entrare nel dettaglio della dinamica però se sputi e basta finisce lì è poco divertente poi devi fare altre in un senso come analizziamo un po' voglio voglio allora vabbè dai non ci facciamo bannare si come dicono giustamente she was spitting facts allora in realtà ho sentito un commento di Wes su questa cosa che ovviamente riesce sempre ad elevare questi temi e lui diceva in un mondo in cui è diventato tabù parlare di in che senso si ha fatto il merce ci sono le magliette con ma di quanto tempo fa questa roba mi chiedo su Marte per davvero da poco penso un paio di giorni abbastanza recentemente è uscita poco dopo il book hacking si esatto ok come una settimana hai già fatto il merce non è possibile eh ma ormai effettivamente questa cosa sparirà dalla circolazione penso abbastanza velocemente quindi non deve capitalizzare adesso è stata la licenzia madonna mia però aspetta quindi aspetta fermi questa qui c'era no voglio un attimo capire questa qui aveva un lavoro è stata è un'intervista come è un'intervista per strada che roba era era magari mezza ubriaca non lo so sì era un'intervista che fanno davanti a una discoteca questa ha fatto una battuta una roba così è stata licenziata ora sta facendo gli ha cambiato la svolta anni di studio niente un'intervista di tre secondi posso vederla posso vederla c'è un link che funziona mi sembra magari una cazzata apre only fa madonna mia ragazzi però che tristezza cioè io ormai vivo da content creator questa roba dura cinque secondi e poi finisce non si può bruciare una vita una vita per eh beh se ci pensi ci sono stati anche molto peggiori qui in Italia di per esempio quella insegnante che ha subito ah ok il porn da parte dell'ex dell'ex ragazzo ok ha pubblicato un video di lei online che poi è stata licenziata quella era è successo veramente scusate hack tua hack tua con l'h sì anzi vedo se riesco a ricondividerti lo schermo con l'audio così sto cercando facciamo così sto vedendo un po' questa è la ragazza ok è questo sono questi tre secondi no sarò vecchio eh cioè c'ha ragione però sarò vecchio però insomma quanto può quanto può essere challenge only fans no ti prego che vuol dire not all delightful here are three things that have not been so great here lately number one I have to convince my pawpaw not to shoot the paparazzi outside of our house every day because they've been camped out here for like what c'è parazzi two weeks number two stop asking me for the link in bio for my only fans I don't have an only fans and there will never be an only fans I just I just make funny jokes that's all I do and number three I'm tired of the imposters and all the fake accounts hey there's one more thing that's really madonna mia che dolore ragazzi provo provo dolore del content creator in lieve burnout io ci ho messo tre anni e mezzo per andare in lieve burnout questa qui questa è già fritta c'è già i fake account che gli fanno le imitazioni c'è i paparazzi fuori casa tutti i contenuti AI usciranno con la sua faccia il picco di popolarità durerà un quarto d'ora e poi finirà anche se è licenziata per cavalcare sto momento pure lei quindi un minimo cioè contenta di questa popolarità la sua vuole sfruttare quello sì sicuramente wow già vorrà diventare una comediante una comica e grazie il vostro standard del taberone comunque eh beh parliamo di F-Tech non l'hanno licenziata no? ok ok hanno già offerto soldi per sputare in un bicchiere c'era ma insomma abbiamo avuto mille cose del genere tipo lì che faceva saluto Antonio sono mille queste scorreggie durano un secondo beh per esempio saluto Antonio è durato anche relativamente tanto nel senso che la gente per un anno due anni ha continuato a usarlo chiaro sì era un'era diversa in cui si saturavano meno rapidamente queste cose ehm è il primo che mi ha avuto in mente ma mi ha avuto in mente ce ne potrei nominare altri duecento di cazzate che sono durate un secondo no no esatto no e più passa il tempo più si bruciano velocemente secondo me comunque questi questi meme più diventano consiglio a chiunque crede che da un meme del genere ci poterà fuori una carriera no non c'è a meno che non è già a meno che non è una roba pensata come dire devi essere bravo cioè devi avere qualcosa di sostanza dietro secondo me quello sì e di sostenibile a lungo termine non pensate che la viralità possa far nulla sì per esempio Rovazzi potrebbe essere un buon esempio cioè uno come Rovazzi ha avuto dei momenti di viralità allucinanti lui veramente è stato penso al picco della popolarità in Italia quando è uscito con Andiamo a Comandare ed è riuscito a sfruttarlo perché comunque ha una parte artistica che poi può piacere non piacere ma voleva dire qualcosa e quindi lui ogni estate usciva col tormentone è diventato un professionista pubblicitario poi si è messo a fare tre o quattro poi ha fatto quel video virale con Will Smith poi ha provato a fare altre cose penso che nessuno magari veramente magari tutto tutto l'architettato non lo so magari era brava lo stesso già ci provava a fare qualcosa tipo Penny di Big Bang Theory aveva già velleità e gli serviva questa possibilità può darsi può darsi in America altro che 75% content creator se tu chiedi la maggioranza delle persone ti dirà che vorrei fare il comico se sei a New York se sei in grandi città penso che veramente la percentuale non stiamo giudicando le qualità della persona dopo due tre secondi sto giudicando il processo il processo mentale quello che vedo poi magari è tutto architettato e non lo so diciamo che guadagni allora io stavo riflettendo anche dopo torniamo sul discorso di WESA si ricordatelo che lei vuol commento ma qualcuno ha chiesto io stavo anche riflettendo su io come persona che fa video su youtube e mi rendo conto che io non ho il beneficio del dubbio chiamiamolo così non ho il beneficio del creator che cosa voglio dire che una persona famosa che fa un video da sei può caricare il video da sei e il video può andare bene e la gente può guardarselo perché è famosa un creator che parte oggi non si può permettere di fare un video da sei perché non gliene frega niente a nessuno e quindi quando hai questi momenti di viralità se riesci a produrre anche solo un contenuto da sei riesci magari a stabilizzarti e tirare avanti la carretta il problema è che la maggior parte di queste persone poi non riesce neanche a fare un contenuto da sei ma anche perché noi che abbiamo cioè non so magari questa persona ha già uno storico ha già un modo per esprimersi con cui ha tanti contenuti che magari erano pure da sei pure da sette ma che non aveva abbastanza rich quindi chi lo sa c'è tutto un grosso dipende se però questa è la sua prima espressione pubblica prima lavorava girando friggendo burger e voleva fare la cantante e adesso con questo sputo sulla cappella vuol diventare una cantante dubito che possa funzionare così al volo no esatto e infatti lo vedi anche su youtube che le persone che poi esplodono e rimangono tu mi viene in mente rick faccio degli esempi rick du ferri faccio degli esempi in una bolla piccola ok così che non andiamo a scomodare ma è gente che fa contenuti con costanza nel tuo caso tu sei anche cresciuto rapidamente in poco tempo perché c'è stato il diciamo lo scoppio iniziale di marcella scani a forza del video da 6 mi sto più attento no 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 però il tuo canale youtube per esempio quando ha cominciato a crescere in maniera più rapida dopo il primo boost quindi penso un punto di inflazione sia stato l'intervista con hank se non sbaglio se ricordo bene sì sì ma stiamo che c'erano 5.000 iscritti sono in età di 6.000 sì però avevi già un backlog di video che la gente poteva andare a vedere e quella è un'altra componente importante cioè per legarti a un creator magari questa qui non lo so non so chi sia io la sto scoprendo adesso non penso che avesse nulla però ecco un creator che già ha un backlog dà la possibilità a chi lo scopre oggi di collegarsi a lui di sentirsi più in sintonia con lui perché si va a vedere anche tutti i video vecchi magari invece se non ce l'hai già è anche più difficile perché devi stare al passo con i tempi e diventa complicato quindi sì come dicono anche qua bisogna essere preparati alla fortuna adesso sì questa era sì lo stavo anche io highlighting sì esatto esatto questa secondo lei sì vedete quattro livelli di fortuna di non mi ricordo chi di naval ravicant mi sembra una cosa molto alla naval ravicant questa sì in realtà la citata naval ravicant è di qualcun altro però i quattro livelli di fortuna è come un'azienda che magari va virale da un giorno all'altro se tu sei un'azienda di e-commerce cioè il fidget spinner se tu ti inventi il fidget spinner e va virale al primo giorno ma non è lo stock in magazzino e non sei pronto a gestire diecimila persone che vogliono il reso che ti fanno domande implodi se invece però anche al contrario non puoi fare il magazzino di diecimila fidget spinner e poi mai fallisce per questo magari io prima di licenziarmi da una settimana dall'evento ci avrei pensato un attimo più però non conosciamo poi la magnitudine di questa cosa magari è talmente grande che riuscirà a trovare comunque qualcosa dovesse andare male veramente si apre l'ho di fans sicuro i soldi li fa nessuno io sono cico lo conosco me l'ha citato un mio amico e dice dovresti vedere questo canale del cagnolino eh sì hai ragione hai ragione comunque tornando sul discorso Wesa Wesa cosa ha detto? allora lui appunto ha allargato il discorso sul perché un video di questo tipo diventa virale lo faccio riprendo le sue parole perché non voglio storpiarle dai facciamo così questo video dell'incredibile viralità che ha avuto è che è come se andasse a scoperchiare un bisogno latente un bisogno latente di una parte di umanità che forse in questo momento soffre e che forse cubrichianamente grazie a Tommaso Schifano che diventa un Vez e che saluto cubrichianamente ripensando ovviamente a Svide Shop alla fine altro non vorrebbe che quello che questa ragazza auspicava è come se la Actua Girl avesse detto una verità scomoda una verità che nessuno fino adesso ha avuto così l'impudicizia di dire perché c'è cosa che bisogna sputare su that thing non lo so era un discorso un po' tra l'ironico e penso con una base di idea che potrebbe anche essere interessante da sviluppare cioè dire siamo effettivamente in un momento storico in cui se uno parlasse seriamente di questo tema verrebbe oddio qual è la parola giusta ostracizzato non lo so perché pratiche sessuali neanche così cioè non è che ha detto cioè niente di particolarmente siamo a suo livello è interessante perché è come se avessimo fatto un passo indietro nel mondo della libertà sessuale quasi ok questo forse quello che negli anni settanta sarebbe stato la normalità che magari pochi anni prima era una forma di rivoluzione ad oggi diventa quasi vittima di pettegolezzo o di imbarazzo perché ci si vergogna di nuovo a parlarne in certi contesti non lo so non è che magari è un eccesso come dire magari la viralità è 1% argomento e 99% il fatto che era una ragazzetta carina intervistata in maniera divertente anche artistico sicuramente io è da pensare che se avesse preso una personale cosa fai a far figlio il tuo ragazzo ti faccio un pompino penso che non sarebbe stato ok da ridere 3 secondi cioè il video in cui Omia Toll intervista una che c'è un video simpatico in cui non so se conosci era più divertente quello lì che dai lo conosci no aspetta aspetta a questo punto lo vediamo di Omia Toll lì conosco Africa is back again aspetta aspetta Omia Toll cerco un attimo intanto probabilmente questa ragazza poi verrà invitata alla Casa Bianca durante la Creator Economy Summit ad agosto potrebbe essere divertente con Biden che diciamo la seguirà le norme di Clinton ma niente comunque ce l'ho ce l'ho ce l'ho Tommy spendo tutto in coca non credo sociamo mai avrei pensato che guadagniamo un decimo ok aspetta arriva 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 vivevo nelle case più chiude vabbè potete fare un saluto eh cosa ho un ovetto vibrante nella patata ci teneva dietro ah vediamo posso vai vai puoi cambiare la direzione se vuoi ancora cioè il concetto è che va bene è un po' più oltre se vogliamo di quello che abbiamo visto è un milione di views questa è l'ero persa questa si ok già questa è una cosa un po' più atipica mi è da pensare una quindi magari questo qui il contenitore è meno divertente un po' più atipica come cosa se non è non è così questa si è andata virale proprio per l'evento casuale esatto esatto no non faccio live non indosso vetti però dico prima hai detto da parte subito dici ma potrebbe essere potrebbe essere una roba vediamo quando sarò così alla frutta magari farò una roba del genere giustamente alla frutta poi comincio anche con le uova ragazzi adesso mi viene un dubbio proprio tecnico ma questa qui è piazza San Callisto questa è Roma o no o Milano mi sembra questa è una scena da Milano una persona che ti ferma per strada e ti dice c'è un uvetto però mi sembra che l'accento sia mi sembrava l'accento romano non milanese ma non lo so come se a Milano ci fossero milanesi adesso era Milano ok mi sembrava quando ho visto quelle baracchette lì al lato mi sembrava dove fanno il cinema la sera d'estate a Roma ma niente ok ma poi era bella la faccia di Omitore alla fine aspetta ci tengo perché no aspetta c'entra niente ecco il Paolo Coletti sempre in mezzo si è partito quando si parla di queste cose Paolo Coletti subito aspetta c'è la faccia di Omitore è bellissima la faccia buon divertimento vuoi dire gli avrà più che compriano un magnifico grazie a questo e sarà buon divertimento anche a giudizio ragazzi andiamo avanti con il mio mezzo gigante la sposa Omitore è uno di quei personaggi che per esempio adesso ha tantissimo beneficio del dubbio con la sua audience devo trovare un termine più corretto il beneficio del video non lo so perché lui ha una storia talmente iconica come youtuber che secondo me qualsiasi cosa fa riesce a a tirare l'interesse delle persone è interessante a un certo punto la fama diventa più più essere famoso la fama diventa il contenuto esatto entriamo in territorio di Uesa di personaggismo cioè Fedez qualunque cosa fa diventa contenuto va bene lo stesso sì esatto è lo stesso motivo per cui magari ti segui la telenovela sulle relazioni di George Clooney e non su quelle di Tommaso Di Stefano chiaro perché ti interessa sapere quello che c'è da sapere sulle persone che tutti conoscono e quindi c'è sempre l'aggregazione sui magri argomenti posso dire che mi piacciono questi tabberoni a caso posso dire che abbiamo chiesto abbiamo chiesto domande su eh non le fanno se fai guidare la chat è che sta roba qua ecco è vero sì sì stavo cliccando anch'io domanda sulla carriera cosa ne pensi del dropshipping abbiamo detto carriera no ragazzi è un modo di vendere delle cose super inflazionato dipende cosa vendi in dropshipping in dropshipping ci puoi vendere dei prodotti veri ci puoi vendere le cinesate in generale bisogna stare molto attenti perché molto facilmente vai a buttare soldi concordo ho fatto domanda sulle prestazioni di Tommy contro la Svizzera che vuol dire? ragazzi ne parlerà il mio procuratore stiamo ragionando sul nuovo contratto con la Juventus non dovesse andare avanti ci sono già delle squadre con cui siamo in contatto si vedrà mi dispiace per quello che è successo con la Svizzera i ragazzi si sono impegnati però non ci siamo stati io ho pronostiato 2 a 1 al tablerone precedente non so se ti ricordi qua sul 2 a 0 ho detto ma se fanno il 2 a 1 madonna mia divento virale altro che hack tour però io invece mi ero già avventurato dicendo che Sommer avrebbe parato un rigore ma neanche quello c'è stato neanche un tiro in porta per cui non c'è speranza fino a quanto la propria dignità può essere in vendita parliamo con un esperto Tommy beh sì diciamo che è una bella domanda io mi sono beccato dei vaffanculo già per aver venduto ah sono successe due cose io ho fatto un video per Yubenda un video che Yubenda è un prodotto secondo me interessante tra l'altro italiano è una delle poche start up di successo italiane quindi mi faceva piacere collaborare con loro mi hanno detto fai un video testimonianza noi ci facciamo gli ads poi ho scoperto che questo ad solo su youtube e è andato tanto anche su instagram su meta però solo una versione di questo ad su youtube ha fatto mezzo milione di views wow il problema tecnico è che io ho fatto questo video il giorno in cui mi è spuntato questo brufolo che adesso si vede un pochettino ancora non so probabilmente scoppiando è rimasto qualcuno infatti l'ha visto Yad e ho visto i commenti su facebook sotto quel video ed erano tutti sul brufolo e io penso che questa cosa abbia contribuito alla viralità del video in una maniera incredibile e devo dire che là ho detto ok cioè io ho venduto un pochettino ho venduto la mia dignità un pochettino ho venduto la mia immagine per per ricevere commenti di questo tipo poi ho detto chi se ne frega però ecco vendere i diritti a dv è un po' è un po' questo se vogliamo cioè l'artista che poi ti fa pagare i diritti per usare la sua immagine in televisione adesso lo capisco meglio è stata un'esperienza interessante ho cominciato a ricevere messaggi delle persone che mi dicono ma ti ho visto su una dv che è successo questo è stato una una piccola rivelazione guarda c'è chi vedi l'ha conosciuto proprio da lì vedi sì 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 ce n'è stata anche un'altra in realtà diciamo che ho ho cercato di fare ho fatto per lavoro un piccolo video per l'azienda dove lavoro e c'è stato un commento comunque l'Inghilterra l'Inghilterra vince gli europei no no non credo non credo vediamo se lo trovo subito c'è stato un commento simpaticissimo eccolo qua ho ricevuto anche questo commento qui aspetta fammi vedere se riesco a censurare l'utente dai sì lo censuriamo no no non è problema dai inspect no 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 non mi va di fare perché poi cioè l'ho presa molto sul readrame mi ha fatto ridere però magari evitiamo di farci denunciare eccolo qua ok ma vai a fanculo Tommaso di Revolut tu e il tuo capo ma perché perché stiamo sponsorizzando l'app del Fanto Europeo e io ho fatto un video per parlare di Revolut dove dico il mio capo mi ha detto che ho 30 secondi per convincerti a scaricare Revolut e quindi niente il primo giorno che è uscito questo video subito vai a fanculo Tommaso però è bello perché lo vedi che c'è una correlazione tra quanto rompi il cazzo alle persone e le conversioni adesso al prescindere parlatene male purché ne parlate ma non è parlatene male Andy Kaufman è che in generale nel marketing quando si raggiunge un punto molto vicino alla saturazione in realtà è anche quando cominci a convertire in maniera più efficace è come quando quando fai sales o sei inversa la correlazione quando ricevi insulti è perché hai raggiunto da mente tante persone che qualcuno che ha rotto le balle c'è cioè non è che cioè quella a cui ha rotto le balle magari ti scrivono e te lo fanno sapere però ce ne sono tanti che cominciano a riconoscere perché c'è tanto anche questa parte della brand recognition cioè ah l'ho già sentito nominare quindi chi presta attenzione così come i politici fanno dichiarazioni sopra le righe perché così li vedi sul sul giornale la prima volta e poi la seconda volta presta attenzione a quello che dicono perché li vedi come figure autorevoli in un certo senso è un po' un meccanismo simile secondo me e quando fai sales per esempio ti dicono guarda che la vendita media se fai B2B quindi tu devi vendere un'azienda di media prima che tu riesca a chiudere la vendita o che riesca a entrare in contatto con la persona giusta ci sono sette punti di contatto quindi gli mandi un email gli mandi un messaggio su LinkedIn vedi il post su Instagram della tua azienda gli mandi un'altra email lo chiami al telefono in media chiudi l'affare dopo sette contatti che tu hai con questa persona ok però qualcuno a cinque si rompe i coglioni e ti dice basta si esatto lo devi fare in maniera chiaramente farlo nella maniera più ottimizzata possibile oppure fare come qualcuno che vende videocorsi che manda un email al giorno per 24 giorni io sono dentro le mail di Big Luca Tommy eh sì sì io ce l'ho un email io ho un email che io l'email sì 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 mi diverto troppo mi diverto troppo dai un consiglio al buon RIP che forse un giorno farò uscire un videocorso volessi fare un videocorso come lo sponsorizzeresti dai un consiglio al RIP per il suo futuro corso di personal finance io non ho mai sponsorizzato videocorso ora che ci penso quindi è un'industria che non conosco molto bene diciamo che il tuo il problema di Giorgio è che il problema diciamo la caratteristica di Giorgio è che tu sei un po' l'antivendita esatto se tu ti mettessi a fare i video stile Big Luca perderesti il motivo per cui la gente compra il tuo corso o ti segue in the first place quindi c'è un asset ancora prima da preservare che è Mr. RIP l'immagine di Mr. RIP quindi questa è la prima cosa da tenere in considerazione che va messa davanti a tutto perché è il tuo brand se vogliamo beh tu per esempio non fai nessun tipo di raccolta email giusto? no ecco quello è un qualcosa che proverai a cominciare a fare ok eh lo so vedi cioè tu già cringi con sta cosa io ti dico solo di fare un email non ti dico neanche che devi dire arriva la promozione cioè tu magari per email mandi il riassunto delle prime tre lezioni del corso però già tutti cringi che mi diventa difficile spingerlo così che poi tu sai il progetto non l'ho ancora annunciato ma adesso questo weekend verrà qualche anticipazione riuscirà fuori che sto facendo in collaborazione con un altro collega amico in cui ci sarà una fase di raccolta mail ma non mia io nessuno sta fumando per cui per cui vediamo un po' l'onestà intellettuale è bravo bravo così fino alla fine fino alla fine sì poi alla fine fine se vende fine se vende tutto può essere onestà intellettuale anche cercare di vendere un prodotto che credi sia di valore insomma cioè dai adesso non è sì sì chiaro è che entrando in quella sfera poi la linea tra troppo cioè quelli che dicono no se il prodotto è buono te lo vendo qualunque tecnica no no allora vale tutto anche il promettere che cose non no sono d'accordo non realizzabili ma è non George e no ads vedi sono i notav no vax e io non sopporto le pubblicità nella mia vita io nella mia vita vorrei vorrei avere tipo degli occhialetti ecco quando faranno il visore che mi consente di fare adblock ho speso le pubblicità che trovo per strada sarò felice quando vado a Milano in metropolitana c'è i monitor rumorosi che fanno pubblicità io non so come fare la gente a vivere con questo disturbo continuo una cosa che potresti fare per lavarti nelle mani è fare marketing a chi compra il tuo corso cioè tu gli dici ragazzi fate condividere questo corso con i vostri amici vi do 10 euro ogni vendita fare affiliate marketing è un caro amico o me l'ha strasconsigliato no perché la gente non sai che cosa promette no ma infatti io lo divido in due in due livelli da una parte c'è affiliate marketing che è una cosa molto più strutturata cioè affiliate marketing è una persona con cui hai un contratto a cui dai determinate possibilità cioè tu gli dici puoi usare a volte gli dici anche puoi fare ads sul mio brand è un altro livello ed è un casino da gestire incredibile il referral è un'altra cosa il referral è notion che ti dice invita i tuoi amici a questa pagina e ricevi 5 euro di credito sul tuo piano a parte good luck a setappare sta roba non è difficile ci sono dei software che lo fanno in automatico però chiaro magari nel tuo caso non vuoi dare un incentivo monetario perché è un po' fishy molto spesso la gente lo fa anche di sua spontanea volontà senza necessità di incentivo chiaro che c'è una correlazione forte tra quanto incentivo monetario dai e quanto la gente spinge per far fare le cose quello esiste però se uno dice in realtà la cosa migliore è integrarlo all'interno del prodotto stesso cioè se tu trovassi un modo di dire condividi questa lezione con una persona gratis e poi dopo per continuare a vedere il resto delle lezioni le persone devono acquistare il corso riesci a a generare ancora di più perché non è solo ti è comprato il corso ma diventa anche un trailer del corso che puoi condividere se la piattaforma lo consentisse immagino sì potrebbe essere però ecco diciamo che è un discorso complicato è molto più utilizzato da aziende tech rispetto a aziende di corsi perché chi fa i videocorsi queste cose non a parte che non gli interessano perché vende in altro modo ma poi non le conosce perché chi vende corsi di marketing di solito fa marketing per vendere corsi a chi vuole vendere corsi di marketing e quindi non ha mai lavorato su un sas o non fa robe di questo tipo perché non un libro ma in teoria c'è in progetto anche quello ma dopo dopo quando esce il nuovo progetto a fine luglio ma qualche informazione uscirà nei prossimi giorni il libro ti pulisce dai peccati il libro mi sembra al giorno d'oggi cioè vedere un libro è considerato molto più alto di vendere un corso perché costa poco si presuppone non lo so eppure libri di merda ce ne sono veramente tanti assolutamente assolutamente quindi però si amante la carta lo sfogliare il libro fisico e ha mantenuto questa mistica che c'è dietro chiudiamo con Federico BD che ci chiede premesso che tutti hanno un prezzo ditemi ditemi la cifra mini per cui fareste una marchetta a una certa VPN siate realisti realistici ok ah ti dico un miliardo un miliardo centomila centomila io non sono neanche così secondo me NordVPN è un prodotto che fa il suo ed è una VPN io la VPN la uso e il mio problema è che ci ho fatto un video che è abbastanza è andato abbastanza virale adesso diciamo a livello proprio di ti sei bruciato lo sponsor diventerebbe difficile spiegarlo al pubblico cioè già lo so interromperebbe il cazzo con questa roba chiaro però se tu allora se uno avessi la possibilità di usare i talking point giusti perché il mio problema con guarda di Tom Scott Tom Scott ha fatto il video in cui criticava chi sponsorizzava quella quella VPN e poi c'è tutto è diventato sponsor facendo un video in cui ha costruito un robot in cui quel robot sponsorizza così non deve essere lui a farlo bella trovata e in teoria il video in cui lui la sponsorizza è abbastanza oggettivo dicendo cose ok non facendo le sponsor che fanno fare insomma giumbodrillo per esempio in cui dicono ah poi ti salva i dati contro gli hacker queste puttanate qua oppure usalo per guardarti Netflix di un altro paese esatto cioè lui Tom Scott è stato è stato bello nella sua sponsorizzazione quindi una cosa del genere la farei però considerato il fatto che comunque ci sarà backlash non lo so forse io lo so per il mio YouTube vale molto poco quindi avrei una soglia bassa di 10.000 euro lo farei io per me tipo la puntata dell'attentato quando decido di mollare YouTube faccio la puntata in cui sponsorizzo e poi mi diverto e poi tipo cancello l'account sì e poi anche nel mio caso 10.000 è molto di più di quello che chiede uno sponsor normale quindi chiaramente c'è questa perché sai che dopo rischi di perdere credibilità però vabbè c'è una sponsorizzata ok bon rip tom scott e chissà se tornerà mai non lo so forse tornerà con la sua con la sua vpn che cosa guarda ho visto Linus Tech Tips che ha parlato di questa cosa loro hanno deciso di smettere di sponsorizzare le vpn un po' di tempo fa e lui ha detto sai che c'è adesso voglio tornare a farlo perché nessuno ci ha mai dato credito per questa cosa del fatto che abbiamo smesso di sponsorizzare vpn e continuano comunque a romperci le scatole sulla nostra etica sulle cose e tutto quanto però abbiamo lasciato un sacco di soldi sul tavolo io voglio tornare a fare sponsor delle vpn mi scelgo io la vpn che mi piace quella che si riporta come voglio con i miei quello che farei anch'io quello che farei anch'io farei prima l'analisi di qual è la vpn più vantaggiosa con tutti i trade off che cosa che è stata già fatta in una delle mie sponsorizzazioni a sud vpn avevo mostrato un'analisi fatta dal mondo peer to peer e erano uscite fuori una classifica con 4 o 5 vpn migliori tra proton che nord io uso l'era messa abbastanza male diciamo dovessi consigliarne una commerciale di ray proton ma c'è anche open vpn sono altre meno aggressive come marketing e che sono un po' più pulite oditate non lo so la cui sede è meno shady non voglio dire cose che poi mi posso credere ma guarda nel caso delle vpn in realtà la sede shady è quasi un vantaggio è mica tanto però dipende dipende mica tanto cioè sarebbe anche se fosse Kim Jong-un a farla farebbe la sede in un'isola sfigata e tutti i dati alla Corea del Nord come dire devi bilanciare quanto vuoi che sia al sicuro dagli occhi degli altri governi e quanto vuoi che non sia un altro governo cattivo che sta prendendo quei dati quindi non lo so la Svizzera perfetta Proton Svizzera via Proton gratis sto a fare le marchette sto a fare le marchette gratis capiamoci famosa capisse prima prima dice che vince la Svizzera poi le marchette a Proton eh eh sì eh sì comunque ragazzi è fatto un po' tardi purtroppo devo scappare che c'è la festa c'è la festa della del del kindergarten di mia figlia bene bene allora divertiti vedi quanti lì sono disposti a diventare video creator tanto il sample size è simile a quello della ricerca di youtube così noi pubblichiamo la ricerca su quanti gen alfa si definiscono video content creator esatto e torneremo settimana prossima con un tablerone ancora più preparato di questo che insomma mi sembra se penso meno di questo sia molto difficile però però è una roba è una roba ragazzi sì 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 settimana prossima è l'ultimo tablerone della stagione che poi vado in vacanza quindi gran finale Tommy gran finale da Roma sarà a Roma quindi ci mettiamo da lì ok ok ride a Wesa vi chiediamo cosa ne pensa di questo ride Wesa come si chiama Wesa Twitch Wesa Twitch ok penso che è partito ciao a tutti ragazzi buonanotte ci vediamo domani ciao ciao ciao